Noi lavoriamo principalmente nel settore industriale, quindi ad esempio il dato relativo alla produzione industriale per noi è un punto importante, perché è un indice di quello che le aziende possono investire e realizzare rispetto al contesto nazionale e internazionale. Ci sono settori in cui devono essere puntuali, precisi e capillari. Nel nostro devono essere aggiornati, ma non è così fondamentale che siano diciamo freschi di giornata. Facciamo l'esempio del piano di Industria 4.0, avere l'indicazione di quanto hanno reso gli investimenti legati appunto al piano di Industria 4.0 fa sì che si abbia un focus e una fotografia della realtà industriale non solo del paese. Quindi l'indice relativo agli investimenti fatti e alla ricaduta sulle aziende e il territorio su Industria 4.0 è un aspetto vitale.